Benvenuti al mercatino digitale dell'artigianato online. Io e la mia amica Deborah di Tesori di Craft Room vogliamo ricominciare da qui, dal Made in Italy fatto a mano. Ciao sono Elena, oggi è l'ultimo giorno, festa dell'artigianato online. Deborah e io ringraziamo tutti per la numerosa e calorosa partecipazione. Trovate la pagina Facebook dei Tesori di Craft Room in descrizione. Con il nuovo DPCM del governo gli eventi a cui ero iscritta sono stati annullati, ma io non mi fermerò. Con Deborah di Tesori di Craft Room abbiamo inventato il primo mercatino digitale della storia. Abbiamo allestito il nostro stand nel giardino di casa nostra e girato video e scattato foto per voi da pubblicare sui nostri social e nella discussione dell'evento. Trovate quasi tutto nel mio Etsy Shop, link in descrizione. Oppure scrivete un messaggio nel negozio per ordini personalizzati. Iscriviti al nostro prossimo evento Magico Natale digitale di Julie Leaquin e i Tesori di Craft Room al link eventi Facebook in descrizione. Per ricevere una notifica ad ogni nostra nuova pubblicazione. L'iscrizione è gratuita senza nessun impegno di acquisto. Iniziamo la mia esposizione con una nuova collezione steampunk. Ho scelto come tratto distintivo una corona e l'orologio pensata per gli appassionati dello stile steampunk. Entriamo nel fantasy vittoriano. Borsa rustica effetto antico in stile steampunk con orologio. La protagonista della collezione steampunk 2020. Ed ecco che entra in scena portafoglio e portadocumenti stile steampunk in velluto versus per la piccola principessa medievale una borsetta morbida impermeabile per tenere al sicuro tutti i suoi oggetti preziosi. Trovate la nostra esposizione completa anche nel mio gruppo Facebook appassionati di stile medievale e steampunk. Iscrivetevi nel link in descrizione. Fammi sapere nei commenti se vi sono piaciute le mie creazioni e anche quelle di Deborah e se state già pensando al Natale. Nel prossimo video vi porto a manualmente fiera Busto Arsizio a conoscere meglio i celebri stilisti 48 fili matti. Iscriviti al mio canale se non lo hai già fatto. Seguimi anche su Instagram, Pinterest e i miei eventi locali su Facebook. Visita il mio sito www.julieleaquin.com perché l'eleganza è uno stile di vita.